Salve, salve a tutti. Buonasera, bentornati a quest'ultimo, quasi ultimo, penultimo appuntamento delle Writers Fest. Siamo a Roma, al Wigil e siamo in compagnia di Paolo Flores d'Arcaes, fondatore e direttore di Micromega. Lo abbiamo invitato su questo palco in ragione di un appello che Micromega ha diffuso qualche tempo fa e di cui parleremo adesso con lui, ma anche perché ci è sembrata un'occasione ghiotta per ripercorrere con una persona che ha analizzato e cercato di costruire attraverso il proprio impegno politico e il proprio impegno di saggista e il proprio impegno nella costruzione di un pensiero, di una visione del contemporaneo, di analizzare un pochino quello che è il mondo che anche ReWriters cerca di costruire. In qualche modo, se ReWriters è nato, lo si deve anche al fatto che ci sono state persone come lui che hanno pensato di creare un giornale, come ReWriters è nato da un magazine, che potesse aiutare a pensare il mondo in una maniera diversa. Quindi benvenuto, lei ha il microfono? Perfetto, la prima cosa che gli chiederei di raccontare è appunto a che punto siamo con Micromega, perché quando noi abbiamo ricevuto questo appello in cui si chiedeva di sottoscrivere 5.000 abbonamenti appena la chiusura di Micromega, quindi partiamo da qua. Micromega un mese fa era sull'orlo della chiusura. Teniamo conto che Micromega è stato fondato 37 anni e mezzo fa, esattamente, nella primavera del 1986. All'epoca l'editore era Carlo Caracciolo, che era l'editore dell'Espresso, che era nato agli inizi degli anni 50 e che poi avrebbe fatto Repubblica. Questo editore ha venduto poi a De Benedetti alcuni anni dopo e anche con De Benedetti Micromega non ha avuto nessun problema, ha avuto un editore, per quello che ho potuto vedere io, esemplare. Non abbiamo avuto mai nessuna interferenza di nessun genere e tutto il sostegno che un editore deve dare perché una sua testata funzioni e raggiunga il pubblico più largo possibile. Ma a un certo punto poi De Benedetti ha regalato ai suoi figli il gruppo. I suoi figli dopo poco lo hanno venduto alla famiglia Elkan Agnelli, cioè a quella che era la Fiat. E il primo atto di questa nuova proprietà è stato quello di chiudere Micromega. Dopodiché è stato solo il primo perché poi hanno venduto all'Espresso, hanno venduto giornali locali, stanno distruggendo quella straordinaria mondo editoriale che aveva costruito Carlo Caraccio. Noi ci siamo trovati per cui in una situazione in cui ho dovuto costruire una nuova società non sapendo fare l'editore. Io so fare altre cose, ma non l'editore. Ho dovuto trovare una persona che mi sembrava la persona giusta per le capacità manageriali e di promozione di un prodotto. La scelta si è dimostrata poi sbagliatissima. Per cui noi ci siamo trovati un mese fa a dover fare i conti con una situazione economicamente sul punto del tracollo. Da qui l'appello. Noi avevamo all'epoca 500 abbonamenti alla rivista Libro, al Cartaceo, e 1200 al settimanale online che si chiama Micromega+. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di 5000 abbonamenti. Non credevamo, francamente, in redazione, tranne una redattrice, quella che è entrata a Micromega per ultima, che invece era molto fiduciosa. In realtà ci eravamo dati tre settimane e in due settimane e un giorno quel numero è stato superato. Quindi da questo punto di vista Micromega continua. Naturalmente i 5000 impegni di abbonamento devono ora tradursi in abbonamenti sonanti. Siamo a metà. Io anzi spero che chi vedrà in streaming questo incontro, se è fra coloro che ha fatto questa promessa di abbonamento, si affretti a tradurla in un abbonamento effettivo. e continui presso i suoi amici, sui social, a insistere perché gli abbonamenti si moltiplichino, perché noi con 5000 abbonamenti siamo tranquilli per i prodotti che abbiamo oggi. Ma in realtà se vogliamo raggiungere le nuove generazioni, perché il nostro pubblico diciamo che mediamente ha un'età piuttosto avanzata, non come i quasi 80 anni miei, ma insomma, se vogliamo raggiungere le nuove generazioni, dobbiamo fare investimenti sul piano digitale, investimenti di persone che sappiano utilizzare questi nuovi strumenti e anche strumenti tecnici che costano, per poter avere quelle altre forme di comunicazione e approfondimento senza le quali i giovani non entrano in contatto con la realtà giornalistica, se non marginalmente, perché le loro fonti di informazione e anche di approfondimento spesso sono i podcast, i video e così via. Ecco, questa è la situazione di Micromeda. Ci sembra comunque un risultato incoraggiante, no? È incoraggiante, ma naturalmente se si tirano i remi in barca, se le persone che ci hanno sostenuto pensano è fatta, tra un anno ci troviamo da capo a 12, bisogna su quest'onda continuare e insistere e noi per parte nostra cercheremo di offrire il prodotto migliore come abbiamo fatto in questi 37 anni e mezzo. Benissimo, io penso che possiamo fare un grande in bocca al lupo a Micromeda per questo e mi piacerebbe, diciamo, vi dico anche che quando noi abbiamo pensato a questo incontro e abbiamo un po', insomma, Eugenia ha parlato con Paolo, Floresta Arcais e hanno un po' scelto un titolo per questa conversazione e il titolo contiene la domanda quale rivolta è possibile ancora e la parola rivolta è una parola che forse in questo momento un po' ci interroga, è una parola complessa, è una parola forse anche un po' lontana da quello che è stato il modo in cui è stato immaginato il manifesto culturale Rewriters e al percorso che abbiamo provato a fare in queste tre giornate di festival in cui abbiamo forse insistito molto di più sul mondo che desideriamo e sul desiderio come motore. Tenendo presente questo desiderio e la parola rivolta, insomma, io ho cercato di immaginare come avrei voluto fare e di che cosa avrei voluto parlare con una persona così che per la mia generazione, io sono un po' più giovane, comunque rappresenta, diciamo, un maestro, no? E anche adesso mi piace questo riferimento alle persone più giovani che è una rivista di 37 anni, quindi un po' agé e di grande esperienza, come Micromega deve intercettare con linguaggi nuovi per proporvi e proporre a lui un gioco a cui gli ho accennato ma gli ho chiesto di non prepararsi per farlo perché quest'anno la casa editrice La Tartaruga, che è stata una casa editrice fondamentale per la pubblicazione dei libri scritti dalle donne, ha deciso di rimandare in libreria a quasi 50 anni, l'anno prossimo saranno 50 anni, questo libro. Questo libro si chiama Sputiamo su Hegel, il secondo saggio che contiene la donna cliteridea e la donna vaginale, l'ha scritto Carla Lonzi. Carla Lonzi è stata una femminista romana, storica dell'arte, che ha scritto insieme a Elvira Banotti, altra femminista romana che io ho avuto la fortuna di conoscere negli anni 90 quando ho cominciato a fare la giornalista nelle stanze di Noi Donne, Donna Fantastica, hanno scritto questo manifesto che apre questa collezione di saggi e che è il manifesto di rivolta femminile. Il manifesto venne scritto nel 1970, negli anni 70 l'Italia ha prodotto un pensiero molto originale nel percorso femminista che è il pensiero della differenza. Ovviamente le donne a partire dalla seconda guerra mondiale avevano lottato per l'uguaglianza e quest'uguaglianza di fatto si era rivelata un tentativo di spingere le donne a raggiungere in qualche modo il livello a cui stavano gli uomini, fino a che un certo numero di donne abbastanza consistente ha cominciato a rendersi conto che forse non era quello che loro volevano. E in questo manifesto Carla Lonzi e Elvira Banotti mettono in parole, e sono delle parole molto belle, molto originali anche, mettono in parole quest'idea di un qualche cosa che diventa altro. Diventa un manifesto politico, ovviamente, è un manifesto di rivolta, ed è una rivolta che tra le altre cose molte donne, giovani donne oggi, hanno ripreso in mano. Dal 2015 noi conosciamo un movimento popolare, femminista, che si chiama Non una di meno. Non una di meno nel 2015 portò in piazza 250.000 persone per il 25 novembre, e io ricordo di essere stata sui balcone del Parco del Celio, ferma un'ora ad aspettare che passasse il corteo con il mio cane, così affacciata, perché era veramente impressionante. Non si vedeva una cosa così a Roma da moltissimo tempo. Allora, che cosa ho pensato di fare? Su questi fogli ho fatto un compitino, ho spulciato il manifesto di rivolta femminile, ho selezionato alcune parti, e ho provato a farle risuonare con il manifesto di ReWriters. ReWriters è un movimento culturale che ha coagulato intorno a un manifesto persone che si identificano in questa idea di poter costruire insieme, riscrivere l'immaginario contemporaneo, facendo leva in particolare su alcune aree. E quindi adesso io leggo un primo pezzetto e le chiedo poi di commentarlo. Allora, il primo pezzo che io ho scelto comincia così. riconosciamo il carattere mistificatorio di tutte le ideologie, perché attraverso le forme ragionate di potere, teologico, morale, filosofico, politico, hanno costretto l'umanità a una condizione inautentica, oppressa e consenziente. Dietro ogni ideologia noi intravediamo la gerarchia dei sessi. Questo scriveva il manifesto di Rivolta Femminile. Io ho preso un pezzetto del manifesto di ReWriters che oggi, a 50 anni da allora, scrive ci piace l'idea di accendere con luci brillanti quello che sembra già visto. e se è vero che un punto di vista è solo la vista da un punto, per noi quello della molteplicità è l'unica via possibile. Come le risuonano queste due frasi, diciamo, per un filosofo politico? Non dicono esattamente la stessa cosa. Io, per prima cosa, vorrei dire che cosa per me è stata la rivolta. Nel senso, perché avevo scelto questo tema, perché la considero un po' un filo rosso della mia vita. Io la rivolta l'ho incontrata due volte nella realtà e una volta come fatto culturale per me cruciale. Le due volte nella realtà sono innanzitutto il movimento del 68, a cui ho contribuito a dare inizio a questo movimento, perché a Roma il volantino con cui è stata convocata l'assemblea da cui è nata l'occupazione di lettere e filosofia, l'ho scritto io, ancora mi ricordo che il titolo era No al manganello di Gui. Gui era allora il ministro della pubblica istruzione. e c'era stato un pestaggio di studenti a Pisa che avevano manifestato contro la riforma Gui. Quell'assemblea, alla fine di quell'assemblea, io misi ai voti l'occupazione della facoltà, dopodiché uscimmo tutti in corteo per i viali della sapienza, qualche ora dopo venne occupata anche fisica, nel giro di alcuni giorni decine di facoltà in tutta Italia erano occupate e nasceva in Italia il movimento del 68, che era stato per resta anticipato alla fine del 67 dagli studenti di Torino. Quello per me è stata l'esperienza cruciale di rivolta. Una rivolta in cui era una rivolta gioiosa, in cui era una rivolta politica, ma era anche una festa permanente, uno stare insieme con discussioni che la molteplicità una discussione di discussioni continue anche aspre e certamente anche piena di ideologia nel senso deteriore del termine. Perché naturalmente la parola ideologia può avere significati molto diversi. Marx, che ha fatto la più nota critica dell'ideologia, intendeva ideologia in senso negativo perché contrapponeva all'ideologia la scienza della società e quindi la scienza chiamiamola così della lotta di classe. Ideologia un'ideologia in qualche modo come sistema delle idee ciascuno di noi che lo sappia non lo sappia lo ha e la mette in pratica quotidianamente ma gli ideologi sono in genere coloro che di un insieme di idee fanno un sistema dogmatico ecco l'accezione negativa del termine e da questo punto di vista alla ideologia in senso negativo credo si debba contrapporre il pensiero critico l'atteggiamento critico che è aperto costantemente alla molteplicità il che non significa che accoglie tutto cioè la storia di Micromega che da un certo momento in poi per alcuni anni ha avuto come come sottotitolo il primo sottotitolo era le ragioni della sinistra e voleva essere polemico verso le sinistre organizzate a un certo punto per due o tre anni abbiamo avuto come titolo come sottotitolo per una sinistra illuminista poi abbiamo abolito i sottotitoli perché ogni numero ha una sua fisionomia ma ecco la mia idea è quella che cos'è una sinistra illuminista una sinistra che per un verso ha nettissime le sue prese di posizione che sono basate sui valori tradizionali rigorosi della sinistra che sono libertà e giustizia e quindi ha anche delle posizioni molto nette e polemiche anche all'interno del mondo della sinistra che possono essere scomode e creare di sensi anche forti al tempo stesso la massima apertura per il confronto per il dialogo ma non il dialogo come si intende troppo spesso che è una cosa diplomatica cerchiamo di smussare i momenti di di conflitto no ma dialogos nel senso dei dialoghi di Platone dove i vari contendenti se ne dicevano di tutti i colori però sempre con argomenti ecco questa è la mia idea di dialogo e quindi di molteplicità il secondo momento di rivolta che ho vissuto a distanza di alcuni decenni è stato il 14 settembre del 2002 alla fine dell'anno dei girotondi una gigantesca manifestazione che si dice a piazza San Giovanni in realtà no era un intero quartiere io dal palco per me è stata un'emozione indimenticabile perché c'era una marea di non di folla di cittadini consapevoli che si erano auto-organizzati perché a organizzarla siamo stati in quattro persone a casa mia con Pancio Pardi Nanni Moretti ma in realtà si sono auto-organizzati ciascuno in ogni città per la prima volta col tam-tam di internet che era agli inizi ancora si creavano dei pullman autofinanziati il passaparola carovani di macchine a Torino c'è stata una persona che ha affittato un intero treno e l'ha dovuto pagare in anticipo e però si è riempito e anzi ce n'è stato un altro per dire è stato un momento di auto-organizzazione collettiva straordinaria che voleva dire no a Berlusconi come è ovvio e al suo tentativo di creare un regime che grazie a tante manifestazioni poi non è riuscita proprio in quell'anno qualche mese prima c'era stata la più grande manifestazione della storia d'Italia cioè la manifestazione della CGL con Cofferati al Circo Massimo ecco anche quella l'abbiamo chiamata una festa di protesta perché anche lì l'elemento di lotta e l'elemento di festa si intrecciava e poi la rivolta come fatto culturale che per me ha avuto più importanza è la lettura del saggio filosofico di Albert Camus L'uomo in rivolta che ha rappresentato una svolta anche ideologica in senso buono nella mia vita e che è una lettura che penso tutti dovrebbero fare perché Camus è popolarissimo anche fra i giovani come per i suoi romanzi ma io credo che Camus sia anche uno dei più grandi filosofi del dopoguerra la sua idea di rivolta è appunto una idea anti-ideologica di critica delle forme ideologiche che ha assunto la rivolta nella storia e di proposizione di un'idea esistenziale collettiva di rivolta che non ha uguali io credo per originalità e per attualità e quindi ecco con questo indirettamente credo anche di aver risposto perché dipende da quello che intendiamo per rivolta e io non credo a differenza del manifesto femminista che hai citato non credo che tutte le forme di ideologia si equivalgano credo che anzi non si equivalgano affatto che però in tutte quelle che abbiamo conosciuto ci siano ma in modo molto differente dall'una all'altra la sottovalutazione della differenza fra i sessi questo credo che sia un fatto storico che oggi nessuno più mette in discussione bene diciamo io sono molto contenta di questa risposta anche di questo racconto però continuiamo il nostro gioco il secondo tema che io ho scelto mette insieme parla di libertà in queste tre giornate abbiamo declinato in qualche modo i punti del manifesto in tanti diciamo concetti il manifesto di rivolta femminile scrive in una libertà che si sente di affrontare la donna libera anche il figlio e il figlio è l'umanità e una delle aree critiche chiamiamole così del manifesto culturale di Rewriters quella su cui diciamo si esercita la costruzione di un immaginario diverso riguarda i diritti civili i diritti umani le pari opportunità che probabilmente a Carlo Alonzi poco piacevano la giustizia sociale i diritti delle minoranze che oggi sono nel nostro contesto penso tanti temi che si trovano sì queste più che due frasi diciamo sono il titolo di intere biblioteche che hanno discusso questi temi la frase che hai citato del manifesto femminista ripropone in chiave femminista quella che era un'affermazione del manifesto comunista di Marx ed Engels che dice il proletariato liberando se stesso libera l'intera umanità qui è detta in un'altra chiave ma è quasi alla lettera ripreso di peso questo tema cioè ci sono lotte che fanno perno su un soggetto storico sociale ma la liberazione di questo soggetto storico sociale non è la liberazione di una parte a discapito da un'altra è quella liberazione che apre all'emancipazione radicale dell'intera umanità entrambe le due affermazioni hanno un elemento diciamo di ottimismo che a livello storico si è dimostrato ahimè irreale fin qui e poiché la mia idea è che i motivi di dissenso bisogna tirarli fuori tutti e non cercare di dire di sottolineare solo ciò con cui si è d'accordo l'affermazione del manifesto dei comunisti storicamente si è dimostrata falsa nel senso che la abolizione Marx e Engels dicevano che con l'abolizione della proprietà privata verrà meno ogni forma di sfruttamento l'abolizione della libertà della proprietà privata c'è stata e come in Unione Sovietica e ha dato luogo a una nuova forma di oppressione con una nuova classe cosa che è stata teorizzata da teorici di estrema sinistra post-marxisti libertari come per esempio il gruppo francese di socialismo barbarie Castoriadis Lefort eccetera e come del resto era stato intuito durante già la rivoluzione russa da alcune figure anarchiche come era venuto fuori nell'insurrezione dei marinai di Kronstadt che volevano il progetto originale tutto il potere ai soviet che i bolshevichi nel giro di 3-4 anni avevano già schiacciato come del resto aveva intuito Rosa Luxemburg che in polemica con Lenin proprio in un libretto scritto subito dopo la rivoluzione d'ottobre e poco prima di essere assassinata scriveva che la libertà è sempre libertà di pensarla diversamente ecco per cui da questo punto di vista non basta che si emancipi che si liberi un settore della società perché venga meno ogni forma di oppressione è sempre sono sempre in agguato nuove forme di oppressione e questo vale anche per il movimento delle donne e del resto il movimento delle donne che è ben lungi dall'avere ottenuto i diritti per cui si è battuto fin dall'inizio anzi altro che lungi se noi vediamo quello che sta succedendo in Iran da un anno a questa parte cioè un movimento popolare nato e diretto dalle donne che è diventato davvero movimento di un intero popolo tranne la parte proprio la parte che opprime la parte degli ayatollah e delle loro polizie e che ancora oggi vive in una situazione in cui semplicemente voler lasciare al vento i propri capelli pone il rischio della vita un anno fa la donna che ha le origini di questa la morte di una donna che ha l'origine questo è un movimento ma qualche giorno fa un'altra nella stessa situazione picchiata a morte dai cosiddetti guardiani della morale ecco e del resto i movimenti io preferisco parlare di movimenti femministi perché sono tanti sono diversi sono spesso anche in polemica fra loro e purtroppo alle volte ci sono molti movimenti femministi occidentali che non sono dalla parte dei movimenti femministi in altri paesi per esempio il movimento delle donne in Iran non ottiene quel sostegno che dovrebbe essere unanime che molte volte invece viene edulcorato intiepidito amputato secondo me da quei settori che dicono ma dobbiamo capire anche le culture islamiche cioè come se qualsiasi cultura avesse le stesse legittimità non è così qualche giorno fa in televisione c'è stata una persona che veniva una donna che viene dai ranghi della diplomazia non è mai stata ambasciatore ma viene dai ranghi della diplomazia che se n'è uscita con una frase per me era capricciante ha detto nelle relazioni internazionali bisogna tener conto delle democrazie e delle autocrazie perché hanno tutte uguale legittimità ora io avrei capito se avesse detto nel mondo nei rapporti internazionali bisogna tener conto di tutti i rapporti di forza e quindi di tutte le realtà quindi delle democrazie e delle autocrazie malgrado ovviamente non abbiano la stessa legittimità in termini di valore ecco io credo che su questo si rischia alle volte per una malintesa critica del cosiddetto eurocentrismo si dimentichino i valori fondamentali che non sono occidentali sono universali tant'è vero che in occidente si sono imposti attraverso guerre rivoluzioni e continue oppressioni da parte del potere e siccome a un certo punto si parlava anche di clericalismo noi in Italia abbiamo ancora l'articolo 7 della costituzione che è l'unico articolo della costituzione che io abrogherei al più presto perché è un residuo di potere clericale sì forse io diciamo respingerai al mettente l'accusa ai movimenti femministi che invece io trovo che sono molto dalla parte delle donne iraniane però questo ha un passato capisco il senso di quello che lei diceva continuiamo il nostro gioco perché è un paradosso quasi un caso curioso perché la prossima frase che io volevo proporre riguardava proprio l'universalità l'universalità dei valori perché Carla Lonzi e Elvira Banotti nel manifesto di rivolta femminile scrivono non riconoscendosi nella cultura maschile la donna le toglie l'illusione dell'universalità un po' lei lo diceva in un certo senso prima quando diceva tutte le ideologie si portano dietro il disconoscimento della differenza femminile però io volevo portare questo concetto che nel momento in cui nel 1970 quando è stato scritto il manifesto da Carla Lonzi era rivolto semplicemente all'orizzonte uomo-donna lo vorrei far risuonare con due aree che sono al cuore del lavoro di rewriters che sono quello dei diritti delle persone lgbtqia plus l'intersezionalità la queerness cioè queerness questo concetto di queer è un concetto inglese anglofono che intende tutte le persone che si collocano in uno spettro dell'identità che si muove tra l'essere uomo e donna scegliendo diciamo di interpretarlo in un modo personale e poi l'altro elemento tra le altre cose noi ne abbiamo parlato proprio qua con Mabula su Mauro che è una sociologa francese è quello del razzismo il manifesto culturale di rewriters sceglie di lavorare sull'antirazzismo sul contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone nere delle persone indigene o delle persone di colore c'è stato in questi giorni il referendum in Australia che purtroppo ha portato alla non approvazione del riconoscimento degli indigeni e quindi come area positiva di lavoro quella dell'educazione interculturale questo è uno dei temi più delicati perché si presta a manipolazioni e a partire da rivendicazioni sacrosante si presta a convertirsi talvolta nel suo opposto proviamo a fare qualche esempio ci sono figure storiche del femminismo soprattutto in ambito anglosassone figure storiche del femminismo che hanno discusso le tesi di alcune ideologie LGB di alcune perché anche lì è un mondo diciamo sono degli arcipelaghi tutti questi mondi non sono delle organizzazioni per fortuna non sono delle una di queste una di parecchie di queste figure storiche del femminismo in Inghilterra negli Stati Uniti hanno sostenuto quello che ha sostenuto del resto una famosissima scrittrice Rawlings che ha avuto il torto di dire quello che da un punto di vista scientifico è una banalità è un'ovvietà di fronte a un tweet di uno di questi gruppi che diceva che invece di parlare di donna faceva tutta una circonlocuzione ha ricordato che insomma esiste una differenza biologica fra l'essere donna e l'essere uomo ora questa differenza biologica è un dato di fatto e dopodiché esistono tutti tutti quei casi in cui una persona non si sente nella sua realtà biologica e quindi vuole cambiarla ma e tutto ciò va diciamo queste libertà vanno garantite ma non le si garantisce negando il fatto che poi esiste una differenza biologica fondamentale altrimenti si arriva a trasformare quella che è una sacrosanta rivendicazione di eguali diritti in una rivendicazione di privilegi faccio un esempio notissimo e banale alcuni di questi gruppi hanno chiesto che uomini che hanno compiuto la transizione a donne possano garreggiare nelle specialità olimpiche tra le donne ora naturalmente questo comporta siccome le strutture osse muscolari eccetera del loro precedente essere uomini non scompaiono di colpo questo ha fatto sì che ora non mi ricordo in quale specialità sì no non mi ricordo quale specialità dell'atletica ci sia una donna ex uomo che tra gli uomini diciamo era di secondo o terzo piano che stravince tutto con distanza cioè che chiaramente annulla il valore di quella che è una competizione una competizione sportiva questo è solo un caso ma ci sono dei casi più tardi su questo c'è stata Valentina Petrillo che è una delle protagoniste di questa vicenda nel senso che lei è un'atleta paralimpica ipovedente che ha fatto la transizione a donna e il comitato olimpico internazionale ha trovato un modo per adesso si sono messi d'accordo su come stabilire la possibilità per le persone trans di gareggiare in una competizione di sesso diverso ovvero per quanto riguarda le donne che il testosterone deve essere sotto i 5 nanomoli nanomoli è l'unità di misura partendo dal presupposto che sopra questa è come per il doping il testosterone viene usato anche per ottenere prestazioni più importanti dal punto di vista atletico per gli uomini quindi per adesso il comitato olimpico in questo caso ma comunque la società dico la società per dire il contesto cerca di trovare uno spazio e un modo per accomodare il fatto che si stanno realizzando stanno vivendo insieme a noi persone che hanno fatto delle scelte che fino a poco tempo fa forse noi non immaginavamo neanche possibili che la scienza oggi rende possibile esiste una trasformazione che è dovuta anche al fatto che disponiamo di una tecnologia chirurgica per esempio piuttosto che conoscenza sugli ormoni piuttosto che cose che magari appunto non c'erano 200 anni fa per dire perché appunto non ne sapevamo nulla quindi questa trasformazione creerà delle persone per le quali noi dobbiamo creare spazio per i loro diritti e quindi è qui forse che non esiste forse un bianco o un nero completo ma esiste un avvicinamento progressivo allo spazio di libertà che deve essere una cosa che la mia non danneggia la tua ovviamente ma anche se i tuoi diritti non sono rispettati questa cosa riguarda anche me pure se io non sono una persona trans per dire certamente non esiste non esiste solo il bianco e il nero esistono infinite sfumature anche se riguardano infime minoranze quelle infime minoranze vanno tutelate fino alla minoranza del singolo individuo io ora non voglio concentrarmi sulla questione degli ormoni ma diciamo il tasso ormonale non è l'unico indicatore perché appunto in una transizione da uomo a donna si può arrivare ad avere dei tassi ormonali non più nella media maschile ma le ossa non si riducono i muscoli si riducono noi comunque non potremmo dargli non lo risolveremo noi due stasera mentre più grave è la pretesa che ormai a prescindere dalla transizione anche ormonale chirurgica basti dichiararsi di sentirsi di un sesso per averne tutti per avere oneri e privilegi che ci sono in certe circostanze ci sono delle situazioni drammatiche che sono state denunciate credo in alcune carceri dell'Australia ma non è solo nell'Australia in cui uomini che hanno detto di sentirsi donne sulla base di leggi a mio avviso scellerate che consentivano che la semplice dichiarazione di l'autodeterminazione beh di autodeterminazione di dichiarazione di quello che senti di essere comporti il fatto che va in prigione fra le donne e c'è stata è in atto una rivolta delle donne perché questi uomini poi le violentano questa è la realtà ora la autodefinizione non può diventare un termine insomma non in questo modo ciascuno di noi può definirsi come vuole in qualsiasi ambito e se in una determinata circostanza ad esempio l'essere donna o l'essere avere un'endica può avere il colore della pelle comporta delle azioni positive per motivi sociali sacrosanti allora c'è una quota per i neri e io mi dichiaro che mi sento nero e così ho diritto ecco tutto ciò questo fa parte del rischio che delle rivendicazioni sacrosante diventino pura ideologia che crea non maggiore eguaglianza ma nuove sperequazioni alle volte anche molto gravi e soprattutto lede la validità di quelle lotte perché poi chi è contrario anche al riconoscimento di certi diritti utilizzerà questi eccessi per dire lo vedete quindi diciamo che è anche un po' scusi se ho interrotto ma il tempo stringe tra un pochino dobbiamo è anche un po' forse creare lo spazio per un dialogo come lei diceva no? che permetta di trovare piano piano delle strade che rendano possibile contemperare la diversità e assolutamente diversity and equity si chiama perché i temi controversi ce ne sono tantissimi anche in ambito femminista pensa ai conflitti durissimi alle polemiche durissime che ci sono in ambito femminista sulla prostituzione non possiamo farlo qua perché sono le 22.45 noi ci siamo diciamo date questo limite perché dopo c'è un altro momento è il momento del Rewriters Music Talent con l'ultimo artista di questa sera che è Wepro e non vogliamo avrà bisogno del palco per sistemare le sue cose io ringrazio tantissimo Paolo Floresta Arcais per essersi prestato a questo gioco e anche per diciamo averci permesso averci sfidato un pochino rispetto al nostro desiderio di immaginare un cambiamento che faccia spazio per tutti di riconoscere quali possono essere gli angoli bui gli angoli morti perché magari è proprio lì che dobbiamo mettere la luce e ne avevo selezionate un sacco di altre di queste diciamo possibilità di far risuonare il manifesto culturale di Rewriters e il manifesto di rivolta femminile di Carla Lonzi comprate il libro perché la tartaruga l'ho appena ripubblicato grazie mille grazie davvero per l'ospitalità arrivederci grazie grazie a tutti